Buongiorno! Volevamo ringraziare tutti quelli che ci sostengono quotidianamente. Iscrivetevi per aiutare il canale. Grazie molte dei tanti pollici in su. Se volete condividere le vostre barzellette, noi gli daremo risalto pubblicandole. Marito e moglie litigano in casa. Nostra figlia è rimasta incinta a 18 anni. È capitato. È giovane. È inesperta. Nel mentre suonano alla porta. Buongiorno, sono in conte Borromeo. E ho messo incinta vostra figlia. E sono venuto per dirvi che mi prenderò le mie responsabilità. E come intende farlo? Dice la mamma. Se nasce maschio, regalerò una casa a lei, due a suo marito, e tre a sua figlia. Se nasce femmina, regalerò due case a lei, tre a suo marito, e quattro a sua figlia. E se non porterà a termine la gravidanza, interviene il padre. Tu la trombi di nuovo.